Buonasera, sono un po' stanca perché siamo alla fine di questa giornata che è stata veramente entusiasmante. Anche il direttore generale ha detto che mai nella nostra azienda è stato organizzato un congresso di questo genere che ha coinvolto gli operatori sanitari e la popolazione, il che dimostra quanto la popolazione tiene a noi. Lo scopo di questo nostro incontro è che ha coinvolto tutti quelli che lavorano nel nostro ospedale, perché non è il congresso mio o di altri, è il congresso dell'ospedale di Soveria, che è un piccolo ospedale di montagna, purtroppo disegnato non benissimo, dalle ultime linee guida regionali. Eppure in questo ospedale, che è privo di mezzi, riusciamo a fare ancora delle cose belle, cioè riusciamo ad avere cura dei nostri pazienti, proprio nel senso che ci prendiamo cura di loro. Sapete perché abbiamo organizzato questo congresso? Ci è nato tutto da un'idea. Un giorno è arrivato un nostro paziente di 80 anni, che seguiamo da un po' di anni, e aveva in mano una cartellina. Su questa cartellina c'era scritto, dottoressa Marotta che mi cura, che mi cura tutto attaccato. Io l'ho guardato con mossa e lui, quando io l'ho guardato, si è messa a piangere. Gli ho detto, è bellissima questa cosa che ha scritto, che mi cura. Sì, dottore, è che voi non mi date solo le medicine. Voi mi curate, mi coccolate. Dice, io mi sento una persona quando vengo qui nel vostro ospedale. Allora da questo è nata l'idea di far vedere a tutti quello che si fa in questo piccolo ospedale privo di mezzi, ma ricco di umanità. E quello che facciamo adesso, in realtà è sempre stato fatto nell'ospedale di Soveria, perché noi abbiamo sempre badato molto al paziente. E l'Agenas l'ha scoperto adesso però, che bisogna trattare i pazienti in questo modo. Infatti, scusate a quest'ora neanche le parole, mi vengono tanto, sono stanca. Nel piano di lavoro, chiamiamolo così, 2014-2016, hanno parlato di umanizzazione degli ospedali. E hanno proposto anche come misurarli, come se l'amore si potesse misurare. Grazie. 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 Grazie.